Appurato che l'ingrediente segreto principale per una buona pizza è il sudore ed il sebo del pizzaiolo di turno, quindi irreplicabile, a meno che non si voglia mozzare le mani al suddetto pizzaiolo, si può comunque tentare di procedere utilizzando i restanti segreti replicabili. Usare una farina con almeno 10 grammi di proteine. Fare un impasto con il 60% di idratazione. Per chi non volesse fare calcoli, circa due parti di farina ed una abbondante di acqua. Far riposare l'impasto per una notte in frigo. Estrarre l'impasto dal frigorifero e reimpastarlo facendo alcune pieghe. Continuare la lievitazione a temperatura ambiente finché l'impasto non sarà raddoppiato di volume. Il tempo può variare in base a diversi fattori, quali temperatura, umidità eccetera, ma non meno di 4-6 ore di solito. Portare il forno alla temperatura massima possibile, facendolo preriscaldare per almeno una ventina di minuti. Dividere il vano con una teglia, in modo tale da concentrare ulteriormente il calore nella parte bassa del forno. Usare una teglia senza bordi, magari autocostruita, rivestita con della carta forno. Stendere l'impasto cercando di schiacciare il più delicatamente possibile e lasciando sempre almeno un centimetro di cornicione. Usare pomodoro e mozzarella con la minore quantità di acqua possibile. Mettere il pomodoro con movimenti aspirare poco prima di infornare. Posizionare la teglia sul fondo del forno per 6-7 minuti. Sfornare e mettere i restanti condimenti, mozzarella e quel che si vuole. Usare il grill per cuocere i condimenti e la mozzarella in particolare. Posizionando la teglia nella posizione centrale per circa 4-5 minuti. Con questi accorgimenti, anche usando prodotti discount, Lidl, Eurospin, come nel video, la probabilità che esca una pizza dignitosa aumenta notevolmente. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.